A fine 2019 ci siamo occupati di creare un welcome kit per una grossa azienda torinese Reply. Per loro abbiamo studiato un welcome kit che fosse molto particolare in tutte le sue forme, quindi dal packaging, dal contenitore di tutti gli elementi agli elementi interni. All'interno avevamo l'invito per la cena di gala, la guida dell'evento e la guida invece per quanto riguardava gli accompagnatori. Oltre al welcome kit ci siamo occupati anche di creare tutto ciò che sono i giochi del team building per gli ospiti di questo evento. Grazie